Il Tribunale di Bari ha emesso un mandato di custodia cautelare per un 24enne pregiudicato accusato di rapine ed estorsioni ai danni di un supermercato del quartiere Catino. Il giovane, che aveva alle spalle vari furti e rapine, è stato incastrato dalle immagini di videosorveglianza del supermercato e dalle testimonianze di alcune persone che avevano assistito ai suoi malfatti. Il malvivente si era recato ripetutamente presso l'attività commerciale, minacciando di compiere una rapina se le sue richieste di cibo e denaro non fossero state accolte. Il GIP ha dunque emesso un provvedimento restrittivo nei confronti del 24enne con le accuse di estorsione e tentata estorsione.